Attimi di paura a Battipaia nella serata di ieri. Nella chiesa di San Gregorio VII, nel quartiere Sant'Anna, era in corso la messa correlativa a Via Crucis che si è svolta all'interno della struttura. Al termine il parroco Don Michele Olivieri, accompagnato dal vice Don Mirco Vitale, si è recato nel suo appartamento. Avvicinandosi ha sentito un odore di bruciato e un brusio provenienti dall'abitazione, insospettitosi e ha quindi cercato di aprire la porta, poi risultata chiusa dall'interno. Volendo accedere da un altro ingresso, i due parroci sono stati sorpresi da quattro ladri, di chiaro origine straniera dato l'accento, che si davano alla fuga. Don Michele e Don Mirco a questo punto sono stati aggrediti. Il primo con un colpo di piede di porco alla spalla sinistra, il secondo alla mano destra, mentre cercava di afferrare il borsone che uno dei malviventi aveva con sé. Per il giovane prete la prognosi è di tre giorni a causa della ferita al dito. I quattro poi sono fuggiti a bordo di un'auto, poi scoperta rubata, all'interno della quale ad attenderli c'era un quinto complice. In gente il bottino contenuto all'interno della cassaforte, che è stata aperta con un flex, da qui l'odore di bruciato avvertito da Don Michele. Si aggira sui 30 mila euro, somma frutto di donazioni e destinata ad azioni benefiche, la refurtiva che i ladri hanno trovato nella cassaforte e che hanno portato via. Secondo i racconti, i quattro ladri avrebbero impiegato circa dieci minuti per compiere il furto. Sul caso indagano adesso gli uomini della polizia agli ordini del comandante Giuseppe Fedele. I malviventi avevano il volto travisato e si capirà di più grazie alle registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Il modus operandi, infine, farebbe pensare ad un colpo ben congeniato, data anche la concomitanza con la particolare funzione religiosa.